Grazie a tutti. Grazie a tutti i passaggiatori del volo 6814 con destino a Honolulu. Presentense per embarcar per la porta C. Signore passaggiatori, tenete listo i passaggiatori e tarjeta di embarco per la inspezione. Grazie a tutti. 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 Forza 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 Se está recalculando tu itinerario Tu destino sta a 2 km Tu destino sta a 1,5 km En la siguiente intersección, gira a la izquierda Gira a la izquierda En la siguiente intersección, gira a la derecha Tu destino sta a 500 m Has llegado a tu destino La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.